Vice sindaco, il problema degli allagamenti in Viale Piceno è un problema endemico che si trascina da anni, però adesso ci sono delle novità, quali? Direi ci sono le soluzioni, perché abbiamo provato in conferenza dei servizi con una procedura d'urgenza messa in pratica grazie alle nuove leggi che sono state introdotte per i comuni allagati come il nostro durante il maggio del 2023 abbiamo quindi attraverso una conferenza dei servizi approvato un progetto che è quello di liberare dall'acqua piovana che si raccoglieva durante gli acquazzoni e le piogge intense via Pisacane nella parte qua giù vicino via della Repubblica, via del Bersaglio in particolare e quindi abbiamo provato questo progetto e non solo, attraverso l'ordinanza 13 della protezione civile, anzi del commissario della protezione civile Figliuolo abbiamo ottenuto un finanziamento ingente, molto importante, di oltre 5 milioni di euro per questa fase, ma abbiamo chiesto una piccola integrazione fino ad arrivare ad 8 milioni di euro per risolvere definitivamente questo problema attraverso la realizzazione di un nuovo scatolare sotto la ferrovia adriatica che possa convogliare tutte le acque che scendono verso questa zona attraverso questo tubo e raccoglierle in una vasca molto capiente che si troverà nella zona dell'ex bersaglio e in questo modo poterla pompare quando le mareggiate finiscono al mare e quindi risolveremo il problema degli allargamenti di via Pisacane quindi la notizia è che il progetto è stato approvato da tutti gli enti straordinati con una procedura rapidissima e i soldi sono pervenuti attraverso la protezione civile dopo richiesta del comune di Fano perché qui non si allaghi più nulla, una città più bella, una città più accogliente deve risolvere anche i problemi di sicurezza di questa parte della città Questa è una risposta molto importante, vorrei sottolineare solo un aspetto, dieci anni fa quando ci siamo insediati abbiamo preso subito come priorità di affrontare le questioni di grandi crisi che la città viveva nell'emergenza, Ponte Sasso, Lido e via Pisacane per richiamare la zona oggi possiamo dire dopo dieci anni tutte queste zone hanno avuto delle risposte, ovviamente in alcuni casi sono alcune modifiche da apportare però veramente c'è stata una risposta e questa è quella definitiva Siamo stati incaricati dal comune di sviluppare uno studio di fattibilità per risolvere una problematica legata agli allagamenti e al fatto che abbiamo in questa città un sistema foniario di tipo misto, quindi in qualche maniera acque meteoriche, acque reflui urbane sono commiste in un sistema foniario che è in gestione all'azienda Il progetto che abbiamo sviluppato prevede anche la realizzazione di una vasca di accumulo di 2500 metri cubi che consente di evitare di sversare in ambiente acque reflui miste urbane con dei carichi inquinanti piuttosto importanti e evitare di mandarle in ambiente mandandoli invece al depuratore che svolgerà la propria funzione di purificazione delle acque Come dire i tempi di realizzazione? Ma i tempi, intanto il grande risultato è stato quello di accelerare grazie all'ordinanza del commissariale i tempi di autorizzazione e approvazione del progetto quindi invece di un anno, un anno e mezzo che sarebbe stato necessario in tre mesi il comune ha provveduto ad approvare via definitiva il progetto definitivo e la variante urbanistica a questo punto noi svilupperemo il progetto esecutivo in un paio di mesi e subito dopo, quindi direi entro l'estate, provvederemo alla pubblicazione del bando di gara